Durante l'inaugurazione io farò vedere un progetto che abbiamo finito e concluso recentemente che riguarda le celle solari, le celle solari di silicio, le celle solari fotovoltaiche, quelle che si trovano su tutte le case degli edifici. Con questo progetto abbiamo cercato di aumentare l'efficienza delle celle solari con dei materiali luminescenti. Abbiamo cercato di recuperare dell'energia che viene persa normalmente nelle celle solari e attraverso i materiali luminescenti aumentare l'efficienza di questi materiali.